Ringrazio per l'invito e vi porto i saluti della professoressa Fachin che è la responsabile scientifica del progetto regionale sulla depressione per i natale. Partirei dal dire perché la programmazione sanitaria si deve occupare di questo, un po' è già stato detto ma il perché la depressione per i natale è un problema di sanità pubblica lo spieghiamo con tre ordini di motivi. Il primo è che sicuramente è un problema rilevante come vedete, poi perché ha degli esiti sicuramente sulla madre ovviamente sulla madre ma anche sui nuovi nati che lo ricordiamo sono la fetta di popolazione con il maggior potenziale di salute e sui quali interventi sociosanitari generano il maggior beneficio e poi ci sono anche esiti estremi ed infausti come il suicidio materno e l'infanticidio che magari potrebbero essere prevenuti. Il terzo motivo è che la presa in carico di queste donne per forza di cose deve essere multidisciplinare e multiprofessionale e necessita di percorsi integrati frutto di un'attenta programmazione e organizzazione sanitaria. Ed è per questo che l'Istituto Superiore di Sanità si è interessato da sempre del tema e nel 2016 il Ministero della Salute ha stanziato un fondo dedicato ai progetti regionali che si fossero occupati del tema. Ed ecco che ha indicato quattro obiettivi specifici da sviluppare nei progetti che li vedete qui sono la campagna informativa, lo screening e la diagnosi, la presa in carico e la valutazione. Ed è così che Regione Veneto ha presentato il proprio progetto seguendo un approccio di comunità e il progetto poi è stato finanziato. Qui lo schema di come l'abbiamo sviluppato, vedete sono rispettati i quattro obiettivi ministeriali, il percorso nasce dalla donna e la tiene al centro di tutta l'organizzazione sanitaria e differenziamo i percorsi in base al rischio rilevato allo screening della donna se alto, medio o basso e creiamo dei percorsi integrati intra ospedalieri e ospedale territorio. Vi porto brevemente alcuni dati che sono emersi da uno studio che abbiamo condotto in fase programmatoria di questo progetto e abbiamo condotto uno studio multifonte per rilevare la prevalenza di depressione perinatale andando ad indagare le diagnosi psichiatriche materne e l'uso di psicofarmaci nel periodo perinatale. Nell'1,6% dei parti e nel 2% delle donne compare un disturbo depressivo in quest'epoca. Quattro donne su cinque con depressione perinatale fanno uso di psicofarmaci in quel periodo e il 79% di queste ha una presa in carico esclusivamente farmacologica quindi senza psicoterapia o altri trattamenti. Nella metà dei casi non c'è un controllo specialistico nel senso che i farmaci, le prescrizioni di farmaci avvengono ad esclusivo carico del medico di medicina generale. Poi abbiamo indagato anche gli esiti di salute in termini di cronicizzazione e recidiva focalizzandoci sulle donne che hanno avuto più parti nel periodo di interesse. Al netto di quelle che avevano già una storia psicopatologica pregressa, nel 35% dei casi, cioè in più di una donna su tre, al parto successivo compariva un nuovo episodio di depressione perinatale. Ed infine i suicidi nel periodo dal 2010 al 2018 che abbiamo studiato, ce ne sono stati cinque, in due di queste donne non abbiamo trovato informazioni, cioè non erano note ai servizi e non assumevano farmaci. Quindi per riassumere che cosa ci dicono questi numeri e che cosa ci chiedono di fare? Ribadiscono che il problema è sicuramente rilevante e ha degli esiti importanti. Evidenziano una frattura tra i servizi, si vede il largo uso di farmaci e lo scarso controllo specialistico e poi ci dicono drammaticamente che non tutte le donne depresse accedono ai servizi. Ed ecco perché c'è bisogno di una capillare informazione che inizi già durante la gravidanza e al momento del parto, in maniera tale da superare lo stigma e il tabù legato da sempre alla patologia psichiatrica e che è anche barriera nell'accesso ai servizi e nel chiedere aiuto. Ecco perché uno degli obiettivi del progetto è proprio quello della campagna informativa. Abbiamo realizzato questo poster e delle brochure che veicolino poche informazioni molto semplici, date anche in maniera divulgativa e in maniera positiva, in maniera da dare delle informazioni su quali sono i campanelli d'allarme da valutare, da tenere in considerazione per i genitori, ma ci rivolgiamo anche alla popolazione generale, infatti i poster verranno affissi anche nella grande distribuzione, supermercati e via dicendo. La brochure invece verrà distribuita nei punti di nascita, inizieremo a breve, al momento della dimissione e le abbiamo rese specifiche per ogni territorio, quindi nel retro della brochure ci saranno le informazioni sui servizi attivi nell'ULS di residenza della mamma. Veniamo al vivo del progetto, che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto creare un percorso condiviso a livello regionale, partendo però da delle prassi, da delle esperienze già presenti in regione e sono seguiti una serie di tavoli tecnici per la definizione dei percorsi, sempre partendo dal real life. A breve parte la formazione, già sabato un gruppo di psicologi di tre ULS campione, parteciperà al corso tenuto dal professore Samilgrom, abbiamo colto questa occasione di farli partecipare e a seguire ad ottobre inizieremo con la formazione delle ostetriche, che sono parte fondamentale del nostro percorso, che ora vi descrivo. Infatti il percorso consiste in uno screening che avviene al punto nascita, durante il ricovero per il parto, composto da due elementi, l'EPDS e i fattori di rischio salienti noti che la letteratura ci evidenzia per la patologia. La scelta del timing deriva da un compromesso tra l'aderenza allo screening e la predittività dello stesso. Infatti eseguirlo al momento della nascita ci permette di raggiungere pressoché la totalità delle mamme. Siamo consapevoli ovviamente che la sensibilità può essere ridotta dal fisiologico baby blues che compare nei primi giorni dopo parto e proprio sapendolo abbiamo tarato i cut off dello screening con l'asticella un po' più in alto. Fatto lo screening abbiamo la suddivisione delle donne in tre categorie ad alto, medio e basso rischio. A supporto di questa prima fase per aiutare le ostetriche direttamente interessate nello screening abbiamo realizzato un sistema informativo che in questo momento è raggiungibile dall'applicativo CEDAP che è quello che utilizzano le ostetriche per la compilazione del certificato di assistenza al parto. Quindi l'ostetriche inserisce le risposte alle PDS, le risposte alla scheda dei fattori di rischio e un algoritmo sottostante rimanda un'informazione sul rischio della donna e un'informazione molto pratica e concreta sul percorso da attivare. Ad esempio se l'ITEM10, quello relativo all'autolesionismo e positivo, all'ostetrica compare è necessario attivare il percorso ad alto rischio che è questo. Le donne ad alto rischio vengono valutate prima della dimissione nel reparto di ostetricia da un psichiatra o da uno psicologo clinico referente per il punto nascita. Se poi la diagnosi è confermata si avvia il trattamento e si avvia la presa in carico e prima della dimissione viene fatta un UIMD per dimettere la donna in maniera protetta. Si pone anche una particolare attenzione al nato ovviamente e in caso di disidenza prolungata della mamma il neonato può prolungare il proprio ricovero nel punto nascita e è necessario, si ribadisce la necessità di valutare l'attaccamento materno e l'accudimento della mamma prima della dimissione. Se invece il rischio allo screening è medio viene allertato il consultorio familiare che nei giorni successivi alla dimissione andrà a casa della donna e per l'on visiting, alla quale abbiamo attribuito una funzione di sostegno e di supporto alla genitorialità e in quell'occasione viene rivalutato anche il rischio depressivo. Una volta che la diagnosi è confermata si avvia il trattamento che sarà tarato sul grado di patologia con interventi crescenti ad intensità e complessità crescente dal counseling alla psicoterapia alla terapia farmacologica o combinazioni di queste. Sappiamo ovviamente che il progetto è molto ambizioso e siamo solo all'inizio però crediamo molto in questo progetto e nella possibilità di offrire dei benefici alle donne e alle famiglie. Grazie. Grazie.